Buongiorno a tutti, ma dovrei dire buon pomeriggio, sono le 5 e mezza, 6, più o meno, di lunedì e mi appresto, visto che martedì sera ci sono quattro belle partitine, due del campionato italiano e due del campionato spagnolo. Abbiamo bollettine del gigione, poi con comodo o stanotte o nella giornata di martedì vi preparerò le schedine e bollettine per quanto riguarda le partite di mercoledì e giovedì del campionato italiano e spagnolo, perché ci sono questo bel infrasettimanale. Ma intanto passiamo a vedere le partite che si giocheranno martedì, come dicevo due del campionato italiano e due del campionato spagnolo e quindi partiamo subito con Parma Verona 1, Brescia Inter a mio rischio e pericolo 2, alla Vesta Atletico Madrid 2 e Barcellona Valladolid 1, con 5 euro 33,73 euro. Seconda bollettina quella con le doppie, Parma Verona 1x, Brescia Inter 2, alla Vesta Atletico Madrid x2 e Barcellona Valladolid 1, con 5 euro 12,47 euro, però se uno vuole arrischiarsi alla Vesta Atletico Madrid 2, la quota sale a 19,49 euro, pochi ma buoni come dico sempre. Poi, a vostro rischio e pericolo, se anziché fare alla Vesta Atletico Madrid x, mettere il 2 fisso, lasciate la doppia e la mettete su Brescia Inter 2, ma questo è a vostro rischio e pericolo. No, l'ho già messa, quindi non si può fare altro, potreste rischiare solo Parma Verona 1x e toglierla, però Parma Verona è data a 2,25 l'1, quindi è una quota abbastanza alta, perché molti temono il trapasso del Parma che è venuto a San Siro a fare libidine e poi dopo magari in casa mi perde col Verona, quindi non si sa mai, allora meglio prevenire, meglio che curare. Vedete voi, però a quel punto mi togliete tutte le doppie, quindi è inutile che faccio la schedina con le doppie. Detto questo, andiamo alla terza bollettina, questa è un pochettino più goduriosa. Parma Verona 1x più over, Brescia Inter x2 più over, alla Vesca Atletico Madrid x2 più over, Barcellona Balladolid 1 più over, gli over sono tutti over 1,5. Con 5 euro 22,31 euro, se uno vuole essere coraggioso e togliere la X a Brescia Inter giocando 2 più over, ma a suo rischio e pericolo, magari è meglio metterla su alla Vesca Atletico Madrid, che pagherà anche un po' di più. Comunque se uno vuole rischiarla così, andrebbe a vincere 29,07. È sempre a vostra discrezione. Detto questo, quarta bollettina un pochettino più tostevole, più difficile, Parma Verona gol ospite sì, Brescia Inter gol casa sì, e queste ci stanno abbastanza. Alla Vesca Atletico Madrid gol casa sì, e qua ci sta un po' meno, molto meno, e Barcellona Balladolid, stranamente il gol ospite, non è che lo escludono, anzi tutt'altro. Comunque rischiandola così con 5 euro 38 euro di vincita, virgola 0,1, va bene, conta poco, il centesimo. Veniamo alla quinta bollettina, Parma Verona gol più over, Brescia Inter gol più over. Allora, per quanto riguarda Parma Verona, il gol più over è più o meno alla pari con il no gol più under, c'è una differenza a favore del no gol più under, ma siamo nell'ambito dello 0,10. Quindi proprio una cosa infinitesimale. Brescia Inter il gol più over è favorito. Alla Vesca Atletico Madrid invece è il favorito al no gol più under, quindi tenetene molto molto conto, danno per scontato che l'Allavesca di gol del Flaminga, poi magari finisce 2 a 3. Infine, Barcellona-Valladolidio il gol più over è favorito. Con 5 euro con questi 4 gol più over se ne andrebbero a vincere 189,62. Infine, il tricombo con la doppia opzione. Parma Verona 1 più gol più over, Brescia Inter 2 più gol più over, Alla Vesca Atletico Madrid 2 più gol più over e Barcellona-Valladolidio 1 più gol più over. Con 2 euro 356,65 di vincita. Con 5 euro 891,63. Siccome ho visto che alla Vesca Atletico Madrid il no gol più under è molto ma molto favorito rispetto al gol più over, vi ho fatto anche l'opzione opposta lasciando i gol più over per Parma Verona, Brescia Inter e Barcellona-Valladolidio. Quindi, Parma Verona 1 più gol più over, Brescia Inter 2 più gol più over e Barcellona-Valladolidio 1 più gol più over. Mentre invece, all'avversa Atletico Madrid, provare il no gol più under, quindi 2 più no gol più under. Giocandola così con 2,213,99 che è comunque una bella cifra, con 5,534,98. Vi ho dato delle opzioni, io terrò presente solo quando farò i conteggi per vedere cosa ho combinato, il gol più gol più over o 2 più gol più over. Però vi ho dato anche l'opzione opposta, vedendo anche le quote eccetera, i consigli generali. Così avete più ampia scelta per fare le vostre bollettine, perché come vi dico sempre, estrapolate e create la vostra su misura con le quattro partite che si giocheranno appunto martedì. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!